La CGL di Catanzaro ha voluto essere protagonista dell'iniziativa insieme alle altre associazioni e c'è un motivo che non è semplicemente un motivo ideale di affezione dei percorsi che insieme facciamo nel costruire le tutele ai lavoratori. Noi abbiamo un comitato e un osservatorio sulle politiche di genere che abbiamo istituito grazie all'impegno di Marco e della CGL per capire cosa succede nel mondo del lavoro perché c'è una cosa in questo Paese che non viene mai collegata e detta. Quando vi è una discriminazione generale quella discriminazione ricade su tutta la vita della persona quindi anche sui luoghi di lavoro e quindi c'è un tema che si chiama democrazia, costituzione costruzione di un Paese che vuole stare insieme. Ecco noi come CGL siamo in piazza non per difendere una parte ma per difendere questo Paese per difendere la libertà di questo Paese di essere se stesso, semplicemente se stesso nel modo di rappresentare i diritti delle persone. Non può esserci una parte che dica all'altra come bisogna regolare un rapporto che tra l'altro è civile fa parte di un patto, un patto tra due soggetti privato e quindi nel privato non ci può entrare qualcuno che ci dice, ci fa la morale su come dobbiamo vivere comportarci, fare l'amore eccetera eccetera eccetera. Quindi la CGL è qua per difendere questo principio, per dire che la Camera almeno approvi il DDL Cirinna con il compromesso che hanno raggiunto e che almeno non vi sia un vento contrario contrario anche a quelle che erano le promesse del governo appena insediato quando disse noi sulle unioni civili faremo in fretta. Siccome chi sta bene è comodo no, pensa sempre che il tempo passi tranquillamente per gli altri quindi quella fretta non è proprio un'esigenza, un'urgenza noi abbiamo detto appunto sveglia Italia, facciamo in fretta perché è giusto che questo Paese sani una pecca, cioè che non ci siano cittadini che hanno meno diritti degli altri e noi continuiamo questa battaglia. Grazie 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 Grazie